Una modella brasiliana di 31 anni, Adriana Vieira, attiva su OnlyFans, è stata trovata morta in circostanze misteriose. Come riportato dal sito The US Sun, il 21 settembre aveva partecipato a una festa su uno yacht organizzata da un rapper, la cui identità rimane sconosciuta. Il suo corpo, noto sui social come Lady Rich Forever, è stato rinvenuto galleggiante in un porto di Miami, ma le cause della morte non sono ancora state rese pubbliche. La notizia è stata confermata dal fratello, Leandro Vieira, che ha condiviso sui social una dichiarazione della madre. Adriana, originaria di San Paolo e madre di un bambino di sei anni, vantava oltre 500.000 follower su Instagram. La polizia della Florida sta indagando sul caso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.